Sono partiti alla conquista dell'oceano e sorvolando terre e mari hanno portato a termine la più grande traversata atlantica di massa di tutti i tempi. Più di cento uomini, un'anima sola, li chiamavano gli atlantici. 28 ottobre 1922, giorno della marcia su Roma e della conquista del potere da parte del fascismo. Tra i quadrumveri che organizzano la mobilitazione delle camicie nere c'è un giovane di 26 anni, con pizzetto e capelli arruffati, nato a Quartesana, alle porte di Ferrara. Il suo nome è Italo Balbo. È brillante, ambizioso, nato in una famiglia piccolo-borghese, laurea in scienze politiche. È capitano degli Alpini durante la Grande Guerra. Alla fine del conflitto aderisce al fascismo divenendo in poco tempo capo indiscusso dello squadrismo ferrarese. Nell'affermazione del fascismo nella zona padana, nella zona ferrarese, Balbo è determinante. Lui gestisce tutto lo squadrismo ferrarese, che è uno dei più feroci, è uno dei più agguerriti. Durante poi il ventennio fascista ancora si ricordava la famosa colonna di fuoco, cioè la colonna di Balbo, dei fascisti di Balbo, che metteva a ferre a fuoco le città romagnole e spazzando via tutte le organizzazioni operaie e socialiste. Si propone come un uomo d'azione, il classico uomo d'azione che sa realizzare i piani e i progetti. Nel 1923 Balbo è nominato comandante della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ma un anno dopo si dimette a causa dell'omicidio di Don Giovanni Minzoni, un parroco di Argenta ucciso da squadristi. È un delitto ordito dalla federazione fascista di Ferrara. Balbo, accusato di essere connivente con i mandanti, lascia la milizia, ma non la politica. Mussolini però non può fare a meno di Balbo, perché Balbo è veramente un esponente di quello squadrismo importante della Val Padana che era un elemento di forza del fascismo stesso. Inquieto, irrequieto, turbolento, ma forte, un elemento di forza. Era quello che dava la forza numerica al fascismo. Mussolini lo promuove sottosegretario all'economia nazionale, poi sottosegretario alla reggia aeronautica, la più giovane delle forze armate, il fiore all'occhiello del duce, che si dichiara fanatico del volo. L'aeronautica è giovane, la forza armata ha tre anni, è rissosa e disordinata perché è nata con pezzi di altre forze armate ed è piuttosto difficile metterla assieme. Balbo, che non è pilota, che non è mai stato in aeronautica, viene mandato fondamentalmente per normalizzare la situazione. Essendo un personaggio di primo piano del regime, è in qualche modo non scavalcabile. In realtà nessuno si aspetta che lui ci prenda gusto. Questo è il punto. 8 giugno 1930, prima giornata dell'ala. 250 aerei sono schierati ala contro ala alla presenza di Mussolini e del re Vittorio Emanuele III. Determinato a dare alla giovane arma il prestigio che merita, Balbo punta su esibizioni spettacolari e enfatizzate dalla propaganda. Per incoraggiare gli arruolamenti e far familiarizzare gli italiani con il volo, inventa le giornate del battesimo dell'ala. Donne, bambini, intere scolaresche, accorrono in massa sui prati dell'aeroporto del Vittorio. Tutti vogliono provare il brivido del volo. Balbo ha un forte senso della comunicazione, un forte senso della propaganda. Quindi queste scene fatte per il pubblico, fatte per il consumo pubblico, fanno parte del progetto. Ma lui ha una sfida profonda. L'aeronautica è una cosa nuova, gli aeroplani sono ancora percepiti come insicuri. Lui deve in qualche modo vendere un prodotto mentre ancora lo sta costruendo e sviluppando. Il volo non deve essere più ispirato a criteri sportivi, abbacinato dal miraggio di un record individuale, ma valorizzare tutta la massa aeronautica del paese. L'Italia deve dimostrare che la sua riserva di uomini intrepidi e generosi è inesauribile, perché comprende tutto il corpo dei nostri azzurri volatori del cielo. Mussolini lo, come dire, in qualche modo, lo coadiuma in questo, lo fiancheggia, lo aiuta, perché capisce che l'aviazione può rappresentare per il fascismo un grande simbolo di affermazione dell'Italia, dell'Italia in generale e dell'Italia fascista in particolare. Per attuare quel principio di squadra aerea su cui intende sviluppare l'aeronautica, Balbo sperimenta le crociere di massa. La prima è nel Mediterraneo occidentale. Dal 26 maggio al 2 giugno 1928, 61 idrovolanti raggiungono la Spagna. Un anno dopo, fanno rotta verso Oriente, attraverso i cieli di Grecia, Turchia, Bulgaria, fino a Odessa, in Unione Sovietica. Nessun incidente, nessuna avaria, grande successo personale. Balbo, che ha preso il brevetto di volo solo due anni prima, è promosso Ministro dell'Aeronautica e Generale di Squadra Aerea. Tutto questo colpisce l'immaginario di un paese. È, come dire, l'emblema immediato, diretto del progresso, della modernità. Le azioni spettacolari realizzate dalle squadre volanti fanno pensare a una disponibilità di mezzi illimitata. Ma non è così. In realtà, l'aeronautica era la cenerentola delle forze armate italiane. In termini di bilanci, l'esercito aveva 4, la Marina 2 e l'aeronautica 1. Quindi, il 16% delle spese militari complessive. Ritagliare dentro questo i soldi, le risorse, per queste grandi imprese era difficile. Balbo, nonostante tutto, è convinto che le crociere possano elevare il prestigio del paese nel mondo. Pensa in grande. Dopo il mare, l'oceano. Meta finale, il Brasile. C'erano già stati i voli su lunghe distanze, compiuti, tanto per cominciare nel 25, da De Pinedo, verso l'estremo oriente, e sempre da De Pinedo, nel 27, verso le Americhe. Poi erano stati imprisi in solitaria. E non è a questo che Balbo voleva. Quello a cui Balbo pensava, invece, era una trasvolata atlantica di massa. A bordo dell'idrovolante Savoia Marchetti S55. Un biplano di legno, 24 metri di apertura alare, nato come idrobombardiere silurante, ma perfetto per i suoi scopi. E soprattutto, italiano. Era una macchina attrezzata per poter ammarrare e in qualunque punto. Era quindi un'ottima macchina per un momento storico in cui si riteneva che l'idrovolante, proprio perché il globo terrestre è in buona parte coperto dall'acqua, fosse il mezzo più idoneo per i collegamenti su lunghe distanze. Nella scuola di navigazione d'Alto Mare all'idroscalo di Orbetello, a sud di Grosseto, la preparazione va avanti di nascosto per mesi. Quanti in quei mesi erano passati vicino al chiuso recinto dell'idroscalo senza neppure sospettare la grandezza dell'opera che si stava preparando? Neppure gli ufficiali dell'aeronautica, ad eccezione di pochi, conoscevano i particolari dell'impresa progettata. All'oscuro di tutto, sono persino le famiglie degli ufficiali che alloggiano nei pressi dell'idroscalo, come quella del capitano Giuseppe Marini. Il mio primo ricordo che ho di quell'epoca è un manifesto che era molto vivace, con questi aerei S-55, con la traccia del volo che avrebbero fatto. E ho chiesto all'attendente che ci portava a me, a mio fratello a passeggio, che cosa fosse quel manifesto. E lui mi disse, guardate, lì ci sta vostro padre. L'orgoglio si mescola subito con la preoccupazione. Nei vari voli di preparazione ci fu un incidente, per cui mi ottenono dei componenti. Probabilmente dovuto al fatto che i voli notturni venivano effettuati durante le notti, senza luna, per cui la superficie dell'acqua non era vista. Noi sentivamo l'atmosfera della preparazione, della preoccupazione delle mamme o dei parenti, ma certamente non percepivamo qualcosa fosse in gioco, che era in realtà in gioco, era la vita di coloro che partecipavano. il generale Giuseppe Valle, sotto capo di stato maggiore, aveva già avvertito la famiglia. Mio padre mi aveva avvertito, ci aveva avvertito tutti quanti, che lui avrebbe potuto non tornare. Mia mamma era in una pena continua, ma dopo nove anni di finanziamento, matrimonio nel 19, e tutte quante queste altre cose qui, sapeva che la vita di mio padre era legata alla sua passione del volo e dell'aeronautica, quindi di fronte a questo era rassegnata che ogni volta che usciva di casa non sapeva se l'avrebbe rivisto. All'alba del 17 dicembre 1930, i 12 idrovolanti più altri due di riserva decollano da Orbetello. Sono diretti all'Oss al Casares, sulla costa orientale spagnola. Sulle bocche di Bonifacio lo stormo è subito investito da un ciclone. Sei idrovolanti fanno ammaraggio d'emergenza a Mallorca. Poi lo stormo si ricompone e tappa dopo tappa supera Tangeri, poi Kenitra, quindi Via Cisneros in Marocco. Le ore di volo si alternano alle soste per rifornimenti e ricevimenti ufficiali. Per barba, doccia e capelli ci si arrangia come si può. Il 25 dicembre lo stormo è in volo verso l'isola di Bolama, l'ultima tappa africana prima del gran salto verso l'oceano. L'aria è diventata pesante. Gli equipaggi salgono in quota per trovarvi una temperatura più sopportabile. Pranzo di Natale in volo. Una scatoletta di pollo in gelatina e il caffè. A Bolama l'Atlantico è davanti agli occhi ma la sosta dura più del previsto. Balbo è nervoso, rimanda tre volte la partenza. La tratta atlantica è la più difficile, la più lunga, la più impegnativa. Questo si vedeva già sulla carta. Quando la si affronta diventa ancora più difficile. Gli idrovolanti sono carichi oltre ogni limite ragionevole, corse di decollo lunghissime, di notte per poter poi volare di giorno. Quindi si parte di notte e questo rende ancora più difficile il decollo. La potenza dei motori è quella che è e bisogna giostrare molto attentamente manette e comandi per staccarli al momento giusto. A luna e 29 del 6 gennaio 1931, notte di luna piena, i dodici idrovolanti si preparano a decollare uno dopo l'altro verso l'immensità dell'Atlantico. La tensione è altissima. Il capitano Recagno e il generale Valle non riescono a prendere il volo. Balbo riuscì a staccarsi mio padre non riuscì a staccarsi si rimesse con calva piano piano dentro giù verso il mare ammararono ruotarono di 180 gradi e tornarono verso la base il punto di partenza per ricominciare una seconda una seconda planata. Balbo aveva appena ordinato. Se non riuscite a decollare non provate una seconda volta è pericoloso vuol dire che meno apparecchi riusciranno a fare la traversata. Il carattere di mio padre era di estremo orgoglio fece finta di non sentire o di non aver sentito l'ordine che era stato dato e ripartirono. Mentre facevano il primo pezzo del flottaggio avanti a loro sulla rotta che tutti dovevano fare videro un enorme bagliore una grossa fiammata e che cos'era? era l'aereo della squadriglia di Boer Barbicinti Nancy e Imbastari che non amarrò ma si infilò in acqua con uno scoppio enorme perché era pieno di carburante e i quattro morirono sul momento tutti loro. Cercarono i mesi di soccorsi eccetera ma la laguna era piena di pescicani e quindi praticamente di questi quattro eroi non fu più trovato niente. Il capitano Recagno tenta nuovamente il decollo ma il suo idrovolante precipita in acqua lo scafo destro si spezza il motorista Luigi Fois muore sul colpo queste sono le immagini dei soccorsi. I rischi di queste imprese erano legati soprattutto alla fase del decollo perché per le tratte più lunghe gli idrovolanti decollavano in condizioni di sovraccaico e non a caso a Bolama gli incidenti si ebbero in decollo. L'altro rischio poteva essere il cattivo funzionamento dei motori. Di tutto questo Balbo era ben consapevole tant'è vero che arrivò a dire che avrebbe ritenuto un successo il fatto che almeno metà degli idrovolanti fossero riusciti a passare l'oceano. Durante il passaggio sull'oceano altri due idrovolanti ammarano d'urgenza per avaria al motore. Il generale Valle in una disperata lotta contro il tempo riesce invece a raggiungere lo stormo quando ormai ha vista terra. Quando sapevamo che erano arrivati finalmente nella zona dell'ammarraggio in Sud America allora tiravamo tutti e eravamo stati svegli tutta la notte con sospiro di sollievo perché era già arrivato il giorno dopo e naturalmente non fu io ma fu mia mamma che preparò un telegramma e lo mandò direttamente a mio padre in cui si diceva felice fiero suo papà firmato Renato. Il 7 gennaio 1931 dopo più di 18 ore di volo consecutivo lo stormo compatto sorvola la costa del Brasile e alle 19 e 30 ammara nella baia di Porto Natale dopo una sosta a Bahia il volo riprende e in 7 ore gli atlantici sono in vista della grande baia di Rio. Sarà una trasvolata che farà clamore e soprattutto non a caso in Sud America perché in Sud America c'erano le colonie di italiani di emigrati in America che in Sud America che accoglieranno in una maniera trionfale Balbo. In una lettera a Balbo del 10 gennaio 1931 Mussolini scriverà Ho seguito con l'ansia che puoi immaginare ma con la certezza che tu sai il grande volo. L'ala italiana è rimpegnata davanti al mondo e alla storia in un cimento non ancora usato. L'accoglienza è grandiosa le navi ormeggiate salutano lo stormo italiano con colpi di cannone il capo dello stato brasiliano Getulio Vargas viene a salutare i trasvolatori schierati sulle ali dei loro aerei. Feste e parate si interrompono solo per l'omaggio ai compagni caduti a Bolama. Dagli scafi degli 11 S55 che verranno venduti al Brasile in scambio commerciale con caffè vengono infine scaricati sacchi di posta con il timbro ufficiale del primo volo in formazione Italia-Brasile. Il rientro della squadra atlantica avviene a bordo della nave Conte Rosso poi in treno da Genova a Orbetello. Migliaia di persone vogliono incontrare i trasvolatori i giornali traboccano di orgoglio fascista. Il patriottismo è alle stelle Balbo ha vinto la sua sfida e già pensa alla prossima. All'ora 11 del 28 ottobre 1931 nono anniversario della marcia su Roma il duce in divisa da caporale d'onore della milizia accompagnato dal ministro Balbo inaugura il ministero dell'aeronautica. Ogni dettaglio di questo palazzo costruito in soli 26 mesi porta la firma di Balbo. L'inaugurazione del ministero dell'aeronautica è un punto di partenza e se vogliamo la fine dell'inizio perché serve poi da trampolino per i progetti successivi anche se viene inaugurato simbolicamente il 28 ottobre anniversario del regime in realtà non ha nulla di fascista. Qui siamo in un momento in cui si confrontano all'interno del regime due tendenze quella neoclassica che si richiama a piacentini a stili e valori plastici particolari e quella modernista che è poi l'elemento nuovo del Novecento anche questo è anche interessante perché il modernismo era molto osteggiato in Italia da tutta la componente tradizionale fascista. Balbo non ha esitazione vuole le soluzioni moderniste per esempio l'Oper Space che è una classica soluzione architettonica americana anglosassone lui qui la impone c'è l'Oper Space la gente lavora ma deve vedere il collega che lavora si debbono vedere quindi spazi aperti introduce la posta pneumatica una grande novità che quindi accelerava come vedere c'è sempre la velocità c'è sempre il dimezzare il tempo diciamo c'è sempre questo ritmo che in qualche modo Balbo sente che vuole dare alla sua attività la sua energia ed è proprio nelle sale di questo palazzo che Balbo e i suoi più stretti collaboratori accarezzano un sogno ancora più grandioso Balbo concepisce addirittura un giro del mondo per il 1932 per festeggiare il decimo anniversario della marcia su Roma della rivoluzione fascista questo salta un po' per la complessità organizzativa perché un giro del mondo ovviamente coinvolge molti paesi un po' per problemi politici in quanto c'è una instabilità in Estremo Oriente che non permette di passare da lì una crociera aerea così lunga ai poli opposti del mondo non avrebbe impiegato meno di 20 milioni di lire troppo alto per i nostri bilanci bisognava rinunciare senza troppo indulgere al naufragato progetto pensai subito ad un secondo itinerario l'unico punto fermo rimaneva la traversata dell'Atlantico del Nord a questa non volevamo e non potevamo rinunciare l'Atlantico settentrionale aveva una forte attrazione per tutti gli aviatori perché era un po' l'obiettivo quello di collegare vecchio e nuovo mondo che si perseguiva da una decina d'anni adesso si trattava di fare qualcosa di più si trattava di portare una formazione di velivoli concepita per operare su mare attraverso un continente perché bisognava attraversare l'Europa e sorvolare le Alpi e poi attraverso l'Atlantico del Nord in condizioni climatiche se possibile ancora più complesse di quelle che si sono incontrate nell'Atlantico meridionale Balbo punta quindi sulla doppia traversata Atlantica del Nord andata e ritorno un percorso che equivale a metà del giro del mondo affrontato da una formazione di 24 aerei un'impresa senza precedenti e con scarsissime probabilità di riuscita non bastano 24 idrovolanti che funzionano singolarmente devono esserci 24 macchine 24 equipaggi che funzionano insieme nello stesso momento partire ed arrivare insieme questo in una zona in un tratto di mare con tempo pessimo alcuni dei precedenti trasvolatori tra cui il capitano Giuseppe Marini gettano la spugna e mio padre parlando con Italo Balbo gli disse guarda io non posso partecipare perché i miei bambini sono piccoli mia moglie assolutamente non vuole che io corra questo rischio per cui a un certo momento ci fu evidentemente un poco di dissapore per cui Italo Balbo disse a mio padre senti Marini ma mi pare che tu non hai la testa a posto in questo momento persino la moglie di Balbo la contessina Emanuela Florio da cui aveva avuto tre figli è in ansia per la nuova trasvolata e lui le dedica il libro Stormi d'Italia sull'oceano con queste parole alla grande nemica della mia impresa con infinita dolcezza Italo Balbo va avanti impara dagli errori del passato vuole motori più potenti nuove eliche nuovi strumenti di bordo e cerca nuovi uomini bastò lanciare il bando perché le domande piovessero da ogni parte in forma plebiscitaria non vi era ufficiale in possesso dei titoli richiesti che non solo non desiderasse ma insistentemente supplicasse di essere inviato a Orbetello per due anni dal 1931 al 1933 si lavora a ritmo serrato chiusi dentro la scuola di navigazione d'alto mare di Orbetello i futuri equipaggi della seconda squadra atlantica si sottopongono a voli diurni notturni sotto la pioggia la nebbia e alla cieca tra loro il sergente radiotelegrafista navigante Dino Arcangeli mi diceva mio babbo che era talmente serio e talmente duro il corso che quando era bel tempo babbo li mandava in aula a studiare quando era brutto tempo li mandava in volo proprio per temprarli per motivarli di più a studiare a studiare a studiare Gli atlantici sono un gruppo molto particolare perché in realtà si va da un balbo che in quel momento ha soltanto 34 anni e probabilmente è più giovane, ne ha 23-24. È un mondo quindi di giovani, è un mondo di persone che hanno un'esperienza tutto sommato maturata insieme e la clausura di Orbetello ha fatto ancora più gruppo. Loro avevano libertà per 5 ore ogni 15 giorni, non potevano avere mogli al seguito e niente, però mi raccontava mio babbo che era un tipetto abbastanza sveglio che ogni tanto saltavano il muro del recinto dell'aeroporto e andavano a bazzicare un po' di ragazzi molto belli ed eleganti all'Argentalia. Per preparare l'impresa, Balbo invia altri uomini a fare sopralluoghi lungo la rutta e allestire stazioni meteorologiche in Islanda, Groenlandia e Labrador. Intanto, il 28 marzo 1933, 4.000 uomini della regia aeronautica sono a Roma per festeggiare il decennale dell'arma. Balbo è all'apice del suo prestigio personale, sa che tutto è pronto per l'impresa. Il supporto logistico lungo la rotta, i 24 nuovi idrovolanti Ciai S55X, X come decennale, i 100 uomini della cosiddetta centuria alata. La macchina mediatica è già partita, mancano solo tre mesi. L'attesa delle condizioni adatte si prolungò molto e questo consentì ad esempio a una piccola comunità di giornalisti americani, naturalmente interessati direttamente a loro perché si andava a casa loro fondamentalmente, di spostarsi a Orbedello da dove partivano in genere le trasformate di Balbo. Noi abbiamo la descrizione di un grande giornalista americano, David Darra, che sta a Orbedello, ci sta un mese oziando, aspettando, eccetera, fino alla mattina del volo. E è una descrizione dove, a mio avviso, il mito di Balbo già è affermato, perché trapela dalle parole, eppure questo David Darra è un antifascista, non è un fascista, non è un simpatizzante del regime, è un giornalista, anzi, nel Mirino, nel 35, verrà espulso addirittura. Quindi lui è un testimone importante, in questo senso, della costruzione del mito aviatorio di Balbo, perché lui è presente, è presente quando arriva all'alba, la mattina presto arriva Balbo, che riunisce i suoi e gli fa il discorso. I speciali, i speciali e i primi avieri della seconda squadra aerea attacca, assumo da questo momento il comando delle nostre otto squadiglie, con il fermo proposito, portate alla storia, i temi del totatrano. Voi certo comprendete tutti, di prestigio nazionale e di umano progresso, noi siamo investiti. Alle 4.37 del mattino di sabato 1 luglio 1933, i 25 idrovolanti decollano, uno dopo l'altro, dalla silenziosa laguna di Orbetello. Superano le Alpi, mai prima sorvolate da una formazione di aerei, poi il fiume Reno. All'ammaraggio ad Amsterdam, la tragedia. L'aereo del capitano Baldini cappotta. Queste, le immagini straordinarie dei soccorsi. Dall'alto vedo un apparecchio rovesciato, ho una stretta al cuore. C'è per disgrazia un morto, Ugo Quintavalle, un giovane, uno dei migliori. Il dolore è sul volto di tutti. Questi uomini fanno un'anima sola con la mia. I festeggiamenti all'arrivo sono rinviati alla seconda tappa di London Derry, in Irlanda. Poi la formazione prosegue compatta verso Reykjavik, in Islanda. Il 12 luglio inizia la traversata fino a Labrador, la tappa più lunga, la più temuta da tutti. Si alza la nebbia, si vola alla cieca, con i soli strumenti di bordo. Balbo ordina a tutti di tenersi a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. Circolare, ore 8 e 30. Entro nella nebbia, stop. Prendere distanze previste e quota rotta, fissata, stop. Mia quota, metri cento, stop. Balbo. Era molto anche faticoso dal punto di vista fisico. Non c'erano autopiloti. Il sistema doveva essere condotto sempre manualmente. E un aspetto che può sembrare marginale, ma che è importante, è che questi velivoli, questi due volanti, volavano sotto le nuvi, sotto il tempo, come si suol dire. Cioè volavano nella zona che è più interessata dai fenomeni atmosferici, pioggia, vento, nebbia. Uno alla volta, la formazione esce dalla nebbia. Balbo invia a tutti gli equipaggi questo messaggio. Coraggio ragazzi, esco dall'inferno bianco, stop. Cielo sereno, sotto, mare compatto, nebbia, stop. Se un apparecchio vede nannini, me lo comunichi, stop. Poi la squadra fa tappa a Cartwright, un villaggio di pescatori sulla costa del Labrador. Poi a Shediac e a Monreal. Alle 17.45 del 15 luglio 1933, lo stormo di idrovolanti appare sui cieli di Chicago. Sotto i loro scafi, i grattacieli della metropoli e il palazzo dell'esposizione universale dedicata al secolo del progresso. Quattro giorni dopo, Balbo invia un telegramma al Duce. La squadra al completo sui grattacieli di New York. General Italo Balbo, 36-year-old air minister, takes command. Quattro giorni di squadra era concepito da lui due anni fa, quando ha successivamente pilotato 10 out of 14 plane across the Atlantic to Brazil. I trasvolatori sbarcano tra ali di folla che li attende da ore. Salgono su torpedo, sfilano in corteo per le strade. L'America impazzisce per gli Atlantici. I festeggiamenti culminano il 21 luglio con la trionfale sfilata sulla Broadway. Io credo che fino all'ultimo ognuno di quei 100 aviatori abbia continuato a rivivere quella parata straordinaria sulla Broadway, che ha delle dimensioni inimmaginabili per un italiano, anche oggi, e che ha l'ulteriore fatto di essere largamente spontanea. Mentre sulle folle italiane poteva in qualche modo incidere l'organizzazione del regime, poteva mobilitare la gente, lì c'è una manifestazione spontanea. Gli occhi dei media di tutto il mondo sono qui e Balbo parla così ai connazionali raccolti al Madison Square Ball. Siate fieri di essere italiani o connazionali o il progero. Ospiti della grande America, siate la parte eletta dell'antica e della nuova patria. esaltate a canto alto di colore la bella bandiera stellata. Balbo non fa il saluto fascista. Quel gesto non passa inosservato. Balbo evita accuratamente il riferimento al regime. Lui non è l'esponente del regime fascista che va in America. Lui è l'italiano. Lui è un italiano che va in America. E sta parlando agli italiani, a tutti gli italiani. Non sta parlando agli italiani, ai fascisti o agli antifascisti. È un discorso quindi che è molto politico, molto intelligente. Lo fa perché è convinto di farlo, perché sa che è fuori luogo in una nazione che è la patria della democrazia in quel momento, dove lui ha riscosso successo, dove anche l'Italia attraverso di lui ha riscosso molto successo. A lui, a mio avviso, sembrerebbe di sminuirla la sua impresa, andando, come dire, a rendere faziosa e parziale l'impresa stessa, in qualche modo attribuendo nel merito a regime e nonne a una nazione. Balbo e i trasvolatori hanno raggiunto tutti i loro scopi. Sono riusciti ad unire due continenti, aprendo la via ai voli civili transoceanici. Il 25 luglio, la squadra atlantica prende finalmente la via del ritorno. E niente va come dovrebbe andare. Una tempesta sul nord atlantico li costringe a cambiare rotta, a dirigersi verso le azzorre. Al successivo decollo per Lisbona, una nuova tragedia. Alle 14 e 15 del 9 agosto, il corrispondente del Corriere della Sera invia un primo fonogramma. Dodicesimo apparecchio a cappottato in partenza. Uno grave, tre feriti. Pochi minuti dopo, un secondo fonogramma. Squaglia dead. Il tenente Enrico Squaglia, secondo pilota, è morto. L'arrivo in Portogallo è estremamente triste. E viene gestito in maniera molto raccolta, familiare, proprio perché la gioia del successo non deve far passare il secondo piano il dolore per la morte di un collega. Manca l'ultima tappa, per scaramanzia, la più temuta. Finalmente, alle ore 20 del 12 agosto 1933, lo stormo ammara compatto alla foce del Tevere. I trasvolatori sono accolti da eroi. La propaganda di regime esalta il trionfo. Il giorno dopo, gli atlantici, in alta uniforme, rendono omaggio al re Vittorio Emanuele III, che si gode lo spettacolo dalla finestra. I trasvolatori camminano su un tappeto di foglie d'alloro. E, secondo l'antico cerimoniale romano, sfilano su via dei fori imperiali e attraversano l'arco di Costantino tra ali di folla impazzita. Si dirigono verso il Palatino, dove li attende il saluto del duce. Durante i 20.000 chilometri del vostro volo, che col passare del tempo diventerà leggendario, centinaia di milioni di uomini, in tutte le lingue del mondo, hanno pronunciato il nome Italia, che passeranno molti anni, prima che le avviazioni degli altri paesi possono, non dico superare, ma eguagliare la vostra magnifica impresa. Tutti gli atlantici saranno decorati e promossi al grado superiore. Balbo ottiene la nomina di Maresciallo dell'Aria, il grado supremo dell'aeronautica militare. Ma per lui quel trionfo sarà invece l'inizio della fine. Mussolini evidentemente non digerì molto bene la maniera con cui Balbo aveva gestito questo trionfo negli Stati Uniti e soprattutto questa rapida ascesa del personaggio. A questo punto scatta anche quella che è stata sempre un po' un limite di Mussolini, quello di liberarsi dei personaggi ingombranti, che cominciavano a fargli ombra. Meno di tre mesi dopo, il 31 ottobre 1933, Mussolini congeda Balbo da ministro della regia aeronautica. Lo allontana da Roma e lo nomina governatore generale della Libia. Una decisione inaspettata che cambia profondamente il futuro dell'aviazione italiana. Apparentemente non cambiò nulla. In realtà cambiò completamente la prospettiva con cui furono affrontati i successivi dieci anni. Ci furono due guerre, l'Etiopia e la Spagna. Ci fu un cambio di passo nell'evoluzione della tecnologia aeronautica che si verificò alla metà degli anni 30 e ci fu anche una sorta di involuzione dello spirito della stessa Forza Armata in cui tornò a prevalere la dimensione dell'individualismo. si ebbe una sorta di trasformazione all'indietro della regia aeronautica. Furono perse alcune competenze. La navigazione d'altura, chiamiamola così, il volo senza visibilità, l'idea della squadra e del supporto logistico proiettato sulle lunghe distanze. Tutto questo sarebbe poi venuto a mancare nel momento della prova qualche anno dopo. La squadra atlantica viene sciolta formalmente a Orbetello dopo le grandi feste, dopo le grandi celebrazioni a Roma, la sfidata ai poli imperiali, eccetera. Ma in realtà il gruppo degli atlantici rimase sempre in contatto. Si formò un legame, tant'è che ogni tanto qualche reparto dell'aeronautica, dovendo fare esercitazioni di navigazione, pensava di recarsi a Tripoli. E questi voli, che erano anche degli omaggi a Balbo, venivano puntualmente segnalati dalla polizia politica Mussolini come segno di qualche complotto, di qualche cosa che in fondo l'aeronautica era più balbiana che mussoliniana. E questi rapporti amiche voli fanno sì che anche nell'ultimo volo ci fossero con lui i piloti atlantici, i quali aveva già volato. 28 giugno 1940, ore 15. Questa è l'ultima foto di Balbo poco prima della partenza dalla pista di Derna per una missione di ricognizione a Sidi Azeis. Con lui gli amici Ottavio Frailic, ex atlantico, e Nello Quilici, amico fraterno. Tra due ore, l'aereo su cui viaggeranno, un Savoia Marchetti SM 79, Imanu, chiamato così in onore della moglie di Balbo, sarà abbattuto per errore dalla contraerea italiana. Gli otto membri dell'equipaggio moriranno carbonizzati. Balbo ha solo 44 anni. L'Italia è in lutto. Italo Balbo caduto da eroe, titolano tutti i giornali. Il duce ordina i sequi e solenni a Tripoli. Le otto bare sfilano per le vie della città. I funerali di Balbo vengono celebrati in maniera, diciamo, propagandisticamente molto efficace. Balbo si presenta come il figlio prediletto, nei funerali il figlio prediletto del regime, morto incidentalmente, circondato da una grande, universale, diciamo, commozione di un popolo. Ma tutto ciò nasconde quello che erano i veri, reali rapporti che negli ultimi tempi si erano venuti a definire fra Balbo e il regime stesso. Erano stati sempre rapporti difficili, ma negli ultimi anni avevano raggiunto una certa criticità. Perché Balbo non aveva accettato la politica antisemitica del regime, Balbo non era un antisemita che lo aveva manifestato esplicitamente e soprattutto non era favorevole all'alleanza con la Germania. Quindi un dissidio fra i due, inconciliabile, su posizioni molto differenti e soprattutto una linea, una direttrice di marcia di Balbo che non era certo quella di Mussolini. Ancora qualche anno e il regime fascista che Balbo aveva contribuito a imporre crullerà sotto le macerie del secondo conflitto mondiale. Delle crociere e dei trionfi restano solo i ricordi. I destini degli Atlantici si sono divisi. Negli anni dell'impegato dopoguerra ci fu un sovvertimento dei valori quantomeno temporaneo per cui le crociere furono considerate un elemento soltanto di propaganda politica, il che probabilmente lo erano, ma erano anche fatte da aviatori italiani che ci avevano rimesso la pelle. Nel 1969 il colonnello Gheddafi prende il potere in Libia per vendicarsi del passato coloniale italiano espelle dal paese la comunità italiana e le salme dei 10.000 caduti in territorio libico, incluso Balbo e i compagni di equipaggio. Il governo Andreotti organizza il rimpatrio via mare verso il cimitero d'oltremare di Bari. Gli eredi Balbo decidono diversamente. Le spoglie di Italo Balbo saranno tumulate altrove, ad Orbetello, nel piccolo spazio del cimitero riservato agli aviatori caduti nell'idroscalo. Altri dei suoi vecchi compagni di volo riuniti nell'Associazione Trasvolatori Atlantici esprimono lo stesso desiderio essere sepolti insieme. Mio padre stava male, eccetera, negli anni 70 ci disse che stavano creando il cimitero di Orbetello e ci chiese a mia mamma e a me e alla mia sorella più grande se avessimo qualcosa in contrario perché lui fosse sepolto al suo posto come gli aspettava e come lui desiderava ardentemente con tutti gli Atlantici. E lì sta ancora proprio dando la destra al suo comandante Balbo. sotto tanti aspetti la squadra atlantica non si è mai sciolta quello sciogliete le righe a Orbetello è soltanto un arrivederci ed è quindi naturale per loro che alla fine della loro vita si ritrovino dove c'era stato il momento più esaltante cioè Orbetello. In questo fazzoletto di terra toscana vicino al mare chiamato Quadrato degli Atlantici oggi riposano insieme 49 trasvolatori. Dietro la tomba di Italo Balbo una lapide ricorda i compagni caduti a Bolama. Nella pietra è scolpita quest'unica frase la terra non li accolse. il mare non li restituì. è scolpita la terra è scolpita